Trio zira questa sera qui a Ortodonico, festa dei ficchi! Siamo nel cuore della Borgo Medievale di Ortodonico, frazione collinare della comune di Monte Corice dove è andata in scena una tre giorni dedicata al fico bianco dell'Accilento, ma non solo cibo, anche laboratori musicali, artigianato, mostre e tanto altro ancora. Andiamo subito ad intervistare il presidente della Proloco di Ortodonico che ha organizzato questa manifestazione, Paolo Mensa. Qual è l'obiettivo, Paolo, di questa manifestazione? Promuovere il fico bianco del Cilento. Innanzitutto, buonasera, benvenuti ad Ortodonico. Noi siamo qui in questa stupenda piazza per promuovere il fico bianco di Ortodonico e l'artigianato locale che oramai sta scomparendo per svariati motivi che poi non sto qui a spiegare. Noi siamo tutti quanti accentrati attorno a questo fico bianco che era la produzione locale del comune fin ai primi anni 30. Qui si producevano quasi 1000 ettari di ficheti, tutti quanti intorno all'area di Ortodonico, Monte Corice, Fornelli, Zoppi, comunque tutte le frazioni avevano la loro produzione abbastanza abbondante. Adesso sta quasi scomparendo e noi stiamo cercando di rivalutare questo prodotto che è di nicchia. e poi dietro al laboratorio di liuteria... Ecco, a proposito di questo, ci sono altri due progetti importanti che l'Aprologo sta portando avanti. Laboratori musicali con la liuteria dei Fratelli di Luccia e poi il Cilentum Design. Sì, noi abbiamo il laboratorio di liuteria Fratelli di Luccia che è nato dietro a un'idea... diciamo eravamo seduti ad un tavolo con il nostro aiutario locale che è Alfonso Toscano. Parlando di Chirarra Battente, lui è col suo rammarico da tanti anni, nessuno si era avvicinato a questo strumento oramai scomparso del Monte Stella e gli ho detto perché no. Abbiamo preso questa avventura, siamo stati fortunati, abbiamo preso un finanziamento nazionale dal Ministero delle Politiche Sociali e siamo riusciti ad aprire questo laboratorio di liuteria che oramai va avanti da un anno, con le difficoltà dovute alla gente, però comunque noi ce la mettiamo tutte in quanto ci crediamo. Poi un altro progetto è Cilentum Design dell'architetto Francesco Morfini il quale ci supporta e tutto è incentrato sulla raccolta degli oggetti della civiltà contadina e trasformati e rivalutati come oggetti da rete design. Noi diciamo una cosa, se ci diamo una mano tutti quanti e riusciamo a fare più coesione tra enti pubblici che possono essere i comuni, le prologo, le associazioni locali sul posto credo che si riuscirà sicuramente in un futuro, non è anche troppo lontano, ad andare d'accordo. Noi ci siamo riusciti senza nessun tipo di aiuto economico, né da parte del comune, né da parte di nessun altro ente. Fortunatamente andiamo avanti anche assenti, dovuti anche alle varie manifestazioni che ci sono qui sul territorio ma purtroppo i tempi sono quelli che sono e cerchiamo di recuperarli e di accentrarli con le poche risorse di cui disponiamo. Adesso invece andiamo a curiosare tra i tavoli, a sentire un po' quelle che sono le opinioni della gente. Signora, allora come sono questi fighi del Cilento? Ottimi, ottimi sono. Come li hai assaggiati stasera? Con la pasta, a dolci fatti con strudel, poi la caprese con i fighi e il gelato. Quale gli è piaciuto di più però? Il gelato e lo strudel. Tra gelato e strudel? Chi vince? Gelato. Gelato? Allora la rista di maiale con quella cremina di fighi e poi le patatine, no il primo no. Non l'ha preso. Poi abbiamo mangiato quel dolcetto con la marmellata, lo strudel con bella e fighi. Cosa vi è piaciuto di più? L'arista con la crema di fighi. Sì, 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 è un momento insomma univoco. Ok, ok. Tutti concordi. Ecco, quest'anno anche un gemellaggio importante con la Proloco di San Mango Piemonte. Questa sera c'è la presidente Nicola Vitolo e una delegazione ovviamente di coloro che fanno parte di questa Proloco. Nasce innanzitutto dall'amicizia con Paolo che va al di là della nostra rappresentanza di Proloco in buona sostanza. Poi parlando, visto il nostro amore per i nostri territori, cerchiamo di coinvolgerci in attività che siano al di fuori dei nostri territori. Questo per fare sinergie, per fare rete, cercare di fare qualcosa, ecco, anche per fare una movimentazione turistica all'interno dei nostri territori, dai nostri territori verso i nostri territori. Ecco, cos'è Gustannurca, il progetto che state portando avanti? Gustannurca parte da un territorio che è il nostro, San Mango Piemonte, che è una zona vocata alla produzione di melannurca. Nel tempo è molto caduta come produzione, questo è vero, però noi non vogliamo far dimenticare il gusto, perché partendo dal gusto si potrebbe sentire di far sì che aumenti la produzione. E quindi gustare questo tipico frutto che è un frutto di eccellenza dei nostri, tutto campano, è di eccellenza. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, dei fichi di ortodonico alla melannurca di San Mango Piemonte. Esatto, e noi con Paolo, vista questa sinergia, Gustannurca in effetti è un progetto. E poi abbiamo, con Paolo, questa sinergia ci dà melafico, è una contaminazione di mela e fico. Stasera assaggeremo una torta melafico. Abbiamo il nostro pasticciere che è famoso per la torta di melannurca, è famosa per alcuni dolcetti della melannurca. Noi facciamo nell'ambito dell'UMPLI provinciale e regionale anche, facciamo nelle riunioni, io di solito porto questi dolcetti. Vanno a ruba questi dolcetti alla mela, quindi vuol dire che il gusto c'è. Speriamo che aumenti la produzione, in modo tale che crediamo, noi crediamo nell'agricoltura, con Paolo, crediamo nell'agricoltura e crediamo nel turismo e crediamo che agricoltura e turismo possono essere il volano per far rinascere i nostri borghi. Siamo nello stand dei dolci, abbiamo tante bontà, che ci spiega un po' Deborah. Allora, da dove vogliamo iniziare? Perché non saprei davvero da dove partire. Veramente quest'anno c'è l'imbarazzo della scelta, una lista, oserei dire, quasi infinita di dolci, tutti a base di fichi, tutti lavorati artigianalmente. Quello che però viene più apprezzato, diciamo, che viene più apprezzato da chi viene a visitare questa manifestazione? Allora, diciamo, uno di quelli che ha più successo, che è stato il primo dolce fatto durante queste sagre negli anni e che è costante nel tempo e viene fatto proprio dalla Proloco, è la torta ricotta e fichi. In più quest'anno sono stati introdotti altri dolci, quali il cannolo ricotta e fichi, la crostata con la crema e i frichi freschi. In più abbiamo una novità, abbiamo una crostatina con farina di carrube e marmellata di fichi, il classico tozzetto, l'occhio di bue, lo strudel, quest'anno una novità particolare è anche una pastiera con dei fichi caramellati, ottima, molto apprezzata. In più quest'anno c'è anche un gelato con i fichi freschi, fatto veramente in modo artigianale, con i fichi belli sbucciati, tritati, proprio senza aggiunta di conservanti. Quindi le due parole chiave possiamo dire che sono i fichi e artigianato, tutto locale. Sì, indubbiamente, indubbiamente tutto locale, tutto lavorato sul posto, tutto fresco, diciamo dal produttore al consumatore, dalla campagna, noi che l'abbiamo lavorato e ai gentili clienti che rimangono contenti. Cilentum Design, il progetto partito proprio qui da Ortodonico, grazie alla collaborazione tra la Proloco e l'architetto Francesco Morfini. Trasformare gli oggetti della tradizione contadina in arredi contemporanei. Noi abbiamo intercettato proprio l'architetto Morfini, che ce ne parla più nel dettaglio. Noi pensiamo che sia importante attualizzare tutto ciò che ha fatto parte, diciamo, di una tradizione rurale per dare una destinazione però moderna. In effetti, come ho già avuto modo di dire qualche altra volta, la cosa importante, almeno secondo il mio modesto parere, come dire, è tutto personale, quindi chiaramente è tutto opinabile. È importante il riciclo creativo, di cui si parla tantissimo, ormai già da parecchio tempo, è importante recuperare gli oggetti, però almeno il mio interesse è volto più che altro trasformare questi oggetti per dare poi una destinazione attuale, cioè nel caso specifico abbiamo preso questo, questo che è il friscolo. Ecco, esatto, è uno degli oggetti che avete in esposizione stasera. È il pezzo di un frantoio. In effetti, qui all'interno andavano le olive, da cui poi si estraeva praticamente l'olio. E niente, in effetti questo friscolo, che è un oggetto di juta, è diventato poi uno schienale per una sedia. Questa sedia l'abbiamo immaginata l'estate scorsa e abbiamo condiviso il nostro progetto con una piccola azienda artigiana in California e in California l'hanno già realizzata. Allora, di fatti qui ci sono alcune fotografie delle fasi di realizzazione, in particolare del sedile di questa seduta. Questo la realizzeremo anche qui, in tempi molto brevi, mettendo insieme in buona sostanza un falegname, un artigiano che poi tratta l'acciaio e poi, insomma, vanno assemblati in buona sostanza... Ci sono poi anche altri oggetti che andrete a realizzare? Sì, in effetti abbiamo... ho progettato anche il... questo si chiama maglio perché in effetti parte dei piedi sono costituiti da una parte in legno che era il maglio, cioè una specie di mattarello che serviva per realizzare le ginestre, insomma, altro oggetto della tradizione rurale. Abbiamo in serbo anche l'intenzione di produrre oggetti poi con il libano, insomma, diciamo tutte quelle cose tipiche, però ripeto, sempre attualizzandole, cercando di non essere banali, insomma, facendo una cosa anche potenzialmente, speriamo, originale, insomma. In America stanno funzionando, insomma, diciamo, volevamo partire dall'Italia, però qua le cose vanno sempre un po' lentamente. Va bene anche al contrario, insomma, tanto comunque è partito da qua il progetto, quindi non ci sono problemi. E' arrivato ora il momento di andare in cucina. Siamo proprio al ridosso della cucina, andiamo a scoprire come preparano i piatti che poi i tanti visitatori che vengono qui alla festa del Fico possono degustare. Siamo in cucina, siamo con la signora Elisa, abbiamo uno dei piatti. Esatto, com'è composta? Una pasta, sono delle cantele di Antonio Amato, è fatte con un zucchetto preparato con formaggio fresco, pancetta e fili. Insomma, già a vederli viene l'appetito in bocca. Non bisogna anche assaggiarli. Dopo magari li assaggiamo, li assaggiamo anche. Signora, come si prepara la pizza fritta? Acqua, farina, lievito e sale. Poi come la condiamo? Stasera la condiamo con salame e fichi, perché è la festa dei fichi. Le altre volte le facciamo col pomodoro. La classica pizza fritta cilindro. Ecco, ecco. Stasera siamo in base ai fichi. Stasera il fico è il re della tavola. Ma è vero che anche nella frittura bisogna essere bravi. Sfatiamo il mito che è il ruolo più semplice. Bravo, bravo. Certamente la frittura deve essere fatta a puntino. Quindi cosa significa la frittura fatta a puntino? Eh, che l'olio deve avere un giusto punto di cottura. Ok. E poi quanto deve stare lì dentro all'olio? Qualche minuto? Circa 7-8 minuti. E poi insomma, lì abbiamo il prodotto. Olio d'oliva, quindi tutto fresco. Tutti prodotti freschi. Sì, sì, tutti prodotti freschi della zona. Questa è la rista di maiale al forno. Poi facciamo un succhetto. Con il sugo già della carne. Aggiungiamo del formaggio. Poi i fichi. E poi i fichi, ovviamente. Visto che siamo... Non mancano da nessuna parte. Patate fritte, che sono patate fritte normali. Ecco qua. Qui abbiamo il nostro jolly. Il jolly, il jolly. Che cos'è questo jolly? Scopriamo il jolly. Sono fichi fritti in pastella. Caspiterina. Come li preparate? Allora, prepariamo una pastella. La frittura, ovviamente, sempre maestosa della maestra qui, della frittura. E poi mettiamo lo zucchero a velo sopra. Quindi è un dolce questo? Sì, questo è un dolce. Nel corso di questa festa del fico, organizzata dalla locale Proloco, si tengono anche laboratori di artigianato, mostre e tanto altro ancora. Avete già intuito qualcosa? Perché sentite il maestro Alfonso Toscano che sta accordando questa chitarra battente. Noi ci troviamo all'interno del laboratorio Fratelli di Luccia. Maestro, la chitarra battente era uno di quei strumenti musicali che venivano realizzati proprio nell'aria attorno al Monte Stella. Sì, è uno strumento principe del Monte Stella perché mentre le chitarre erano costruite un po' ovunque, qui veniva costruito uno strumento che è diventato autocono, cioè veniva costruito solo qui ed era una chitarra battente particolare a quattro corde che potete vedere lì in quella vetrina. C'erano questi fratelli di Luccia che praticamente hanno cominciato nel 750 a costruire questi fratelli, la famiglia di Luccia iniziava nel 750 a costruire queste chitarre e ha continuato fino a 1987, quando è morto l'ultimo dei discendenti di Luccia. Quindi è stata proprio una dinastia di Yutai che comunque poi dopo aver lavorato qui nel Cilento emigrarono anche nelle Americhe, nelle Americhe insomma ebbero un grande successo. Ebbero un grosso riconoscimento, sì, molto grosso. I loro strumenti in America ancora oggi vengono valutati tra i 10.000 e 30.000 dollari. Ecco, è oggi una tradizione che rivive proprio grazie alla vostra attività al laboratorio Fratelli di Luccia. Sì, rivive grazie alla Prologo di Ortodonico che ha avuto questa idea, cioè che ha preso al balzo questo mio suggerimento, cioè di ripristinare questo artigianato tipico del Monte Stella, che si svolgeva a Sessacilento proprio, e abbiamo inteso intitolare il laboratorio a questi Fratelli di Luccia che sono quelli diciamo più noti fra tutta la dinastia dei Liutai. Vedo anche altri strumenti musicali, magari insieme a lei ci spostiamo così ci puoi spiegare un po' meglio cosa troviamo in questo laboratorio. Sì, questa è una collezione del laboratorio, diciamo così, che ogni tanto acquisisce degli strumenti. Questi sono degli organetti, organetti in uso in varie regioni, questo praticamente è un organetto ciociaro, questo ciociaro non è considerata una cosa... Non è offensivo. E' tipico della zona della ciociaria, è questo delle Marche, diciamo Marche Lazio così, e poi ci sono tanti... Credo dei flauti, giusto? Sì, questo è un flauto di osso ricavato dall'osso, dal femore di una capra, si mangia la capra, poi dall'osso ricava questo... Questo flauto veniva usato dai Romani, se lo portavano in battaglia perché era indistruttibile e anche la zeppa, la zeppa che nei flauti è un po' effimera, era indistruttibile anche questa perché è composta di cera d'api. Semuliamo un suono, facciamo vedere il suono. Ha un suono, non è proprio un'orchestra, però ha un suono. Vabbè, insomma fa la sua figura, fa la sua figura. Un professionista fa la sua figura, io non sono un professionista, non sono un musicista. Ecco, un'altra cosa che le voglio chiedere e poi la salutiamo, qual è oggi l'interesse magari anche da parte delle generazioni dei più giovani verso questo mondo? Noi riscontriamo un ottimo interesse, il problema è che i giovani non conoscono queste cose, quindi l'importante è farglielo conoscere, è per questo che ritengo importantissima e essenziale questa iniziativa del prologo di Ortodonico, che dà la possibilità ai giovani di conoscere cose sconosciute che possono avere anche un risvolto economico per i giovani locali. E adesso entriamo all'interno del Museo della Civiltà Contadina. Siamo in questo scrigno di storia contadina del Cilento, nel Museo di Ortodonico, dove sono custoditi oggetti straordinari della tradizione contadina, insieme a Cesare Maffia, che ormai lo cura da una vita e preserva, insieme ad altri, il territorio e preserva queste ricchezze. Questa associazione di amici del Museo della Civiltà Contadina di Ortodonico, che tanti anni fa decise di valorizzare questo posto perché il paese, ricco di testimonianze del passato, anche di pregio in alcuni casi, andava piano piano perdendo queste cose. Allora è stato un tentativo per recuperare quello che rimaneva. All'inizio c'era molta diffidenza da parte della gente perché questi luoghi, frantoi, mulini e tutto il resto rappresentavano un po' la schiavitù per il passato, la miseria, la povertà. Quindi negli anni 70 avevano rimosso queste cose. Quando noi decidiamo di cominciare a fare una raccolta, in pratica la gente era molto diffidente, addirittura molti cercavano di dissuadere tanti ragazzi che venivano a collaborare. Però poi quando ricominciate a vedere che queste cose erano apprezzate dai forestieri, ognuno si è sentito un po' orgoglioso di queste cose e così magicamente i vecchi soprattutto sono venuti qua e hanno incominciato a spiegare, a raccontare, mentre prima erano reticenti. Oggi il museo ha raccolto queste testimonianze e noi ripresentiamo ai visitatori che vengono piccoli e grandi, con molto successo, devo dire la verità, al punto che in 41 anni abbiamo 110 mila firme. E' il momento invece ora di incontrare il vincitore del concorso A Tavola con il Fico. Siamo in compagnia con Giuseppe Paolo Coppola che è il vincitore della prima edizione A Tavola con il Fico. Con quale piatto hai vinto? Ho vinto con un piatto a base di fichi cilentani abbinati con le acciughe, utilizzo di un grano che è stato ripreso in quest'ultimo periodo, un grano d'origine romana, il carosella. Il piatto viene fatto con un soffritto a base di utilizzo di olio prettamente cilentano e le cipolle di vatolla, un altro prodotto cilentano. Successivamente poi viene utilizzato questo grano e i fichi. Ecco dunque un piatto che esalta ovviamente tutti i prodotti del territorio del Cilento. Sì sì, sono tutti i prodotti cilentani legati quindi al territorio. Ecco ci siamo, è davvero quasi tutto pronto, fermi un attimo perché esanciamo ufficialmente il gemellaggio tra la Proloco di Ortodonico e la Proloco di San Mango Piemonte. Facciamo questo gemellaggio e facciamo un grande applauso. Grazie! A te voi! Viva il Pico Bianco!